Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8 e 30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6 e un quarto. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7 e 51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. Cinque secondi per riprendere conoscenza. Quattro secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più sei per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spense un giorno a sposare con la specie di curioso animale domestico. Tre secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi fare noi! Dagli otto e dieci secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. Due secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata a ventifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di sei secondi netti. Due, uno. Ha ancora un patrimonio di tre minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8 e 01. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti. Cambio! Non ce la farò mai. E allora? Allora prenderò l'autobus al volo. No Ugo, l'autobus al volo no. No papà! Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno due minuti. No Ugo, non l'hai mai fatto! Non hai il fisico adatto. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Ugo! Ma che cosa fa? Prende l'autobus al volo. Coraggio ragioniere! Coraggio ragioniere! Coraggio ragioniere! Non spinga, non spinga Che è successo? No, no, io, no Chi è stato il primo? Si può sapere chi è stato il primo? Devo andare in ufficio, devo timbrare il cartellino Non si può rinviare la discussione Sono in un ritardo pazzesco, devo timbrare il cartellino Aspetti, deve firmare che la responsabilità è sua Ha una pena, c'è una pena lei? Lei non pure c'è No, niente Aspetti, come? Affirmo col sangue Ecco, guardi, va bene? No, arrivederci Avanti, Fantozzi, che ce la fa Coraggio, coraggio, coraggio Ancora, ancora, Fantozzi Su, in un altro sforzo da fare No, non lo aiutate Se no è squalificato, deve arrivarci da solo Si, alzi, che ce la fa Su, non si dia per vinto Su, alzi è arrivato, su Forza, forza, Fantozzi Forza, Fantozzi Su, ci mancano appena cento metri E poi è arrivato Su, forza, Fantozzi L'uscita della sera aveva lo stesso rituale della partenza dei cento metri di una finale olimpica E poi è arrivato a fare Grazie.